ma eccoci ma come fa a essere già passato una settimana è incredibile questa cosa qua però tappa fissa come dice il nostro Luca quindi ben arrivati all'interno di interviste creative oggi super salata per svariati motivi che ora andrò a spiegarvi spero che mi sentiate bene per la gioia di Giorgia e di Valentina che hanno detto che la volta scorsa gli piacevano le luci e ho cercato di ricrearle così insomma spero sarete contenti anche dell'impegno che ci metto, dell'impegno che ci metto sempre dunque intanto vado con un po' di saluti saluto Seba, saluto Luca Giorgia, Milagro saluto Esther che è qui, saluto Valentina scusate ogni tanto mi incasino con i nickname e i nomi reali diventerò matto, attenzione c'è anche il futuro presidente della Repubblica abbiamo qui blu in chiostro blu in chiostro che saluto e abbraccio ovviamente con tutto me stesso chissà se sei già in Sardegna alla facciazza nostra chi lo sa comunque tappa fissa interviste creative oggi una bellissima salata anche perché finalmente dopo un po' di maschietti abbiamo una bellissima ragazza con noi e non vedo l'ora di presentarvi la scoperta incredibile c'è arrivata un suo un suo follow all'interno di Instagram sono andato a vedere mi sono caduti i capelli ma questi ovviamente erano già caduti potrei dire che mi è caduta la mascella mi è caduta la mascella perché il suo genere fotografico io lo adoro è una domanda da farvi che mi sta spaccando il cervello da quando ho visto le sue immagini mi è comparso subito una citazione di un film come ormai tutti sapranno perché ho fatto due balle quadrate a tutti io sono un grande stimatore di David Lynch David LaChapelle l'ho consumato qui a Trieste e sappiamo attenzione c'è anche Elbo ciao Elbo l'ho consumato qui a Trieste avendo la possibilità di fotografarlo per un'ora pensate che roba che mi è successa assurda ma David Lynch è ancora questo non l'ho conosciuto ma le sue serie tv i suoi film mi ronzano nella mente citazioni, libri o una bacheca tipo quelle robe santone in casa nella mia scrivania dove ci sono i libri c'è l'angolo linciano e lì c'è una domanda che io gli devo fare perché chissà se segui o non segui Lynch lo scopriremo ovviamente all'interno di questa serata allora intanto per chi per chi magari fosse qui per la prima volta mi presento sono Demi Salbertà ci sono il Pippo Baudo di percorsi creativi percorsi creativi è una piccola realtà che ha deciso di portare un po' di cultura all'interno di Twitch come magari qualcuno saprà Twitch è una piattaforma prettamente giovanile dove si tratta principalmente videogame ma non solo perché negli ultimi anni sotto Covid probabilmente ha preso ha preso forma anche spazi dedicati al mondo dell'arte dedicati ai talk show insomma e quindi si trattano tante cose diverse e allora perché non portare anche la fotografia in realtà non ci sono molti canali che parlano di fotografia all'interno di questa piattaforma e per noi è stata chiaramente una spinta una propulsione a voler essere qui vi ricordo comunque intanto scusate devo fare il proprio presentatore perché tanto qui per chi volesse trovate il mio profilo Instagram quindi Demis Photo Studio vado veloce per le mie cose qui a questo QR code trovate il canale Instagram di percorsi creativi ecco mi raccomando qui soprattutto questo andate mettetegli il follow così rimanete in contatto su tutte le attività che poi andremo a fare tutte le dirette che facciamo ma non solo dirette perché sto creando delle piccole pillole fotografiche dei piccoli tutorial curiosità eccetera le trovate poi su YouTube altro link da andare a segnare madonna santa quanta roba c'è e poi per i più temerari più giovani perché questo è chi volesse c'è un canale Telegram di percorsi creativi dove non solo si parlerà della serata appena trascorsa ma si parla di videogame si parla di tutto ciò che è giovane e tra le altre cose per poter interagire con noi questa sera potrete farlo tramite chat qui all'interno di Twitch oppure ci potete lasciare un vocale all'interno di Telegram vedete qui ho il telefono pronto per ascoltare i vostri vocali c'è una roba che neanche Raffaella Carrà ai tempi d'oro poteva fare quindi io penso di aver detto tutto quello che riguarda le maniere che abbiamo per rimanere in contatto con noi meriterei chiaramente un piccolo applauso in questo momento da chi ci sta seguendo intanto ciao Daniela ben arrivata spero di non essermi perso nessuno ah scusate devo mettere devo evidenziare questo messaggio Valentina io sono una suddita di Pippo Baudo ed ecco attenzione ho addirittura una suddita questo mi porrebbe nelle veci di Master ma non è ma non è così e questo è un altro argomento un'altra trasmissione un'altra roba quindi viva Pippo Baudo grande vita Pippo Baudo sto prendendo tasti a caso ok ma cerchiamo di dare un attimo di serietà adesso al canale perché ci avviciniamo verso la nostra ospite insomma non vorrei proprio disfare tutto quello che ho cercato di far credere alla nostra Olivia che è la nostra serietà eccetera quindi torno un attimo serio intanto sto dimagrendo volevo dirvi che sono dimagrito 4 kg in questo mese quindi insomma se mi vedete addirittura deperito ditemelo Demis ti vediamo sciupato io avrò sicuramente piacere a riguardo quindi di cosa parliamo oggi ragazzi miei Olivia è una ragazza straordinaria ciò che realizza e lo vedrete tra un attimo va è un stretto confine da ciò che è la teatralità e quello che invece è l'interiorità anzi diciamo che mette in scena l'interiorità guarda ho fatto un connubio immediato ma c'è una bellissima biografia che ora vado a leggervi ciao Flavio ben arrivato prendi fiato mi dice Giorgia va bene prendo fiato attenzione che non sto bevendo il rum ragazzi è finito il rum se volete con le donazioni posso acquistare un'ultima bottiglia che però doserò perché sono a dieta ovviamente per ho detto che ci vogliono 55 calorie a un bicchiere insomma detto questo biografia della nostra super ospite dunque mi metto vicino per cercare di avere una voce anche più metto gli occhiali qui ecco la fotografia di Olivia Mazzola intanto vedo che se la sta ridendo Olivia la vedo io qui un viaggio nell'eleganza l'arte fotografica di questa giovane artista ha come comune denominatore la femminilità e la bellezza Olivia Mazzola ci regala scatti eterei e sognanti non semplici fotografie il ritratto femminile esprime per lei una disarmante sensualità che si evince tramite la sublime eleganza delle forme e delle composizioni nel suo universo creativo troviamo progetti di poesia visiva ottenute da esplorazioni visuali che sembrano trasmettere una sorta di messa a fuoco delle sue interiorità Olivia è una creativa che utilizza la sua pratica fotografica per innescare avanguardie concettuali e per comunicarci meglio il suo sentimento per la luce ragazzi miei breve sigla e saremo qui con la nostra artista grazie a tutti ciao Olivia buonasera buonasera a tutti ciao David allora ben arrivata e grazie per aver accettato il nostro invito grazie a voi grazie a voi sono onorata di essere qua ma no guarda l'onore credimi l'onore è tutto nostro io devo dire che ti ho fatto immediatamente primi complimenti intanto perché ovviamente un ospite senza nulla togliere i nostri maschietti però insomma finalmente insomma no diciamo diciamocelo diciamocelo e poi volevo farti complimenti come te l'ho detto prima a questo magnifico fondale che hai dietro che è un po' teatrale un po' fantastico in stile coutierline per Parisi se sei d'accordo sì sì un misto tra il vintage e gli anni 80 va benissimo allora dunque Olivia prima cosa che ti domando no? sì sei un amante o comunque hai mai visto qualcosa di David Lynch? allora sì direi che Twin Peaks ha fatto parte della mia adolescenza e diciamo che io che sono un po' paurosa i film di un certo tipo faccio molta fatica a vederli però Twin Peaks mi è rimasto impresso devo dire allora io mi aggancio per questa cosa qua mentre Giorgia dice finalmente una donna finalmente una donna ma credetemi che non è affatto cioè giuro che la scelta non era che c'era il maschietto è stato un puro caso comunque perché ti faccio questa domanda qui? sì perché in realtà le ambientazioni le ambientazioni il mood le atmosfere delle tue fotografie hanno un qualcosa di indefinito no? un po' di evanescente ci sono dei non luoghi quindi luoghi adatti a dei pensieri onirici insomma a ciò che riguarda i sogni e proprio di sogni si parlerà questa sera almeno io mi sono permesso chiedendo ovviamente il permesso ad Olivia di dargli un po' questo sottotitolo Dreams perché nella terza stagione di Twin Peaks guarda dove iniziamo nella terza stagione di Twin Peaks che forse non hai visto ma ti dico io una cosa c'è una domanda che pone Lynch sai che Lynch non solo il regista ma recita anche un ruolo all'interno appunto di questa serie in cui si pone questa domanda chi è il sognatore e questa è una domanda che mi sono posto quando ho osservato le tue immagini fermo restando che la domanda cioè la risposta potrebbe essere entrambi il sognatore e chi realizza le immagini e chi le guarda io mi sono fatto un'idea io ho cercato in questi anni darmi una risposta a questa domanda che lui si faceva è chiaro che nel momento in cui un autore nella sua mente crea un'immagine che poi realizzerà insomma con i mezzi fotografici in quel momento prima di mostrarla a tutti è lui il sognatore è lui che ha questa visione dopodiché quando questa visione viene condivisa ognuno trarrà qualcosa da quell'immagine che può essere anche qualcosa di diverso rispetto a quello che l'autore magari voleva dire diventa di tutti le immagini diventano di tutti ognuno troverà poi un suo significato in base al suo trascorso alla sua cultura visiva alla voglia di lasciarsi andare eccetera eccetera quindi io credo che il sognatore questa sera saranno tutti coloro che avranno la possibilità di vedere le tue immagini perché saranno catapultati in un mondo che rimane sospeso in una qualche maniera è un mondo sospeso indefinito dove la definizione viene data ovviamente da ognuno di noi Olivia cosa ne pensi oltre che magari dove essere ricoverato ma cosa ne pensi a riguardo ma allora sicuramente posso parlare della mia fotografia ovviamente per me è una sorta di escapismo cioè è come se io creassi un mondo parallelo e cercassi di evadere dalla mia realtà quotidiana che poi non è così splendida e per cui la fotografia mi permette di creare questi mondi o di creare questa emozione cercare di dare emozione attraverso l'immaginario il mio immaginario chiaramente e come citerei Diana Arbus diceva la fotografia è un po' un segreto un segreto di un segreto più racconti e meno ovviamente dice quindi dovrebbe esserci questa questo fascino questo mistero questo questa possibilità di dare al fruitore l'interpretazione di quelle immagini perché ovviamente quando tu la fai e la vedi è una tua immagine se rimane in un cassetto ma quando poi è esposta al pubblico chiaramente intanto non è più tua e quindi è del pubblico e quindi quello apre tanti risvolti e devo dire che con Instagram che io non utilizzavo ma è un tool che mi ha aiutato tanto perché i commenti delle persone mi hanno fatto capire molto della mia fotografia cosa che io all'inizio non riuscivo neanch'io a comprendere e quindi è stato molto utile per me è stato davvero davvero molto molto utile perché ogni persona emotivamente se quella immagine riesce a creare un'emozione che per me è il diciamo il mio obiettivo principale emozionare certo se ho fatto quello e qualcuno me lo riconosce ho già compiuto il mio cioè sono già felice questo è il mio obiettivo alla fine bellissimo mi piace anche il discorso che hai detto riguardo il mistero no? perché c'è quando qualcosa è indefinito il mistero rimane intanto salutiamo anche Inno Art 89 ciao benvenuto Inno e di mistero sicuramente si parla nelle tue immagini io direi che possiamo iniziare con la prima immagine però dovete perdonarmi un attimo scusatemi metto la prima immagine e mi nascondo un attimo della webcam perché devo mettermi la giacca perché mi sono reso conto di non avere la giacca ed è poco elegante nei confronti del nostro super ospite scusa un attimo intanto metto metto l'immagine guarda torno subito e Olivia guarda così ti metto subito in imbarazzo intanto prima immagine guarda spavisco veramente per un minuto prima immagine prima immagine mi piace questo mondo che rimane quasi sei sembra sommerso sembra quasi una fotografia realizzata un po' in profondità ci racconti questo allora beh sì sì certamente questa fotografia allora io parto dal presupposto che comunque faccio anche autoritratto quindi questo era una fotografia che ho realizzato per un concorso di progetti fotografici e il concorso era appunto autoritratto emotivo per cui avevo questa idea allora a me piace moltissimo la pittura sono molto molto appassionata di pittura dell'impressionismo di tante correnti pittoriche mi influenzano davvero moltissimo e qui volevo cercare di dare di immergere le persone nel mio mondo immaginario un po' amo molto i fiori quindi era un'idea di dire il mio mondo immaginario non è definito perché ogni volta cambia però in questa situazione era un sentirsi leggeri un ricreare movimenti di quadri che mi sono molto molto a cui sono molto affezionata un colore una palette di colori che ricordano appunto alcuni quadri e degli impressionisti e quindi utilizzare quella palette quindi diciamo che è sempre un modo di astrarsi e di cercare di essere influenzati dalle passioni che ho che sono la pittura che sono anche il mondo del cinema insomma di film degli anni 50 tutta la moda degli anni 50 quelle epoche vintage di cui sono veramente molto appassionata e quindi questa era una fotografia che appunto ha partecipato a un concorso che poi ho vinto per cui sono arrivata prima e quindi per me era una delle prime fotografie che facevo e quindi sono molto ero molto felice di questo perché comunque è stato compreso il mio messaggio ecco poi c'è anche una fotografa italiana molto 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 brava che è Anna di Prospero che sono molto influenzata anche dal suo lavoro e soprattutto da il Boldini che è uno dei miei pittori preferiti in assoluto e quindi cerco di ricreare quel mondo all'interno del mio mondo ecco ma è magico secondo me questa cosa qua in un'epoca in cui si ricerca la definizione a tutti i costi no? sai le robe è incredibile perché sono immagini che per questa definizione così soffusa no? potrebbero essere tranquillamente anche delle polaroid potrebbero essere cioè il mezzo è veramente indifferente no? e l'idea emerge prepotentemente l'idea e tutte queste cose qui attenzione che c'è Carlotta che ti scrive super fotografa con tre bombe pronte ad esplodere e ti dico anche che inno ci dice appunto Olivia e tanta roba Giorgia che dice direi che si parte poco a bomba eh cioè veramente grazie poi io mi emoziono abbastanza facilmente beh la saremo in due chiuderemo in lacrime questa live e c'è Elbo che dice bellissima foto da proprio l'idea del sogno quella nebbia quello indefinito tra le altre cose sai io ti dico con grande orgoglio sempre sul pezzo aggiunge Carlotta io aggiungo una cosa di cui sono molto orgoglioso e lo condivido con te Olivia quando siamo arrivati qui su Twitch avevamo sì qualcuno di noi qui a Trieste io tengo dei corsi di fotografia insomma che è venuto ci ha seguito eccetera però sono arrivate tante persone nuove e conoscendoci magari per delle serate dedicate al mondo di videogame che poi hanno deciso di seguirci anche durante queste rubriche tutte le volte che secondo me arriviamo a stimolare la curiosità la sensibilità di persone che magari erano distanti da questo mondo per me quella è la figata cioè per me quella è la cosa più bella che può capitare quindi sono contento che questa sera scoprano te come autrice quindi grazie grazie questo questo sento diviertelo tu realizzi anche Polaroid ti chiedo per mia curiosità o ti sei cimentata allora con la Polaroid ho iniziato da poco e ti posso dire che in questo momento sto facendo soltanto Polaroid perché ovviamente mi sono innamorata del me sì esatto perché per definizione la Polaroid è un oggetto vintage e quindi io avendo questa ripeto lo ripeterò fino alla mia cioè io sono praticamente un'entità nata in un tempo che non è il mio quindi avrei dovuto nascere in un altro quindi sono trasportati in un'epoca che non mi appartiene quindi cerco di riprodurre ciò che era l'epoca che secondo me ha avuto un déjà vu sono nata negli anni 50 ma sono purtroppo poi stata trasportata in un'altra epoca e quindi la Polaroid devo dirti che è veramente bellissima perché ha questa non definizione in automatico perché effettivamente è un negativo che esce direttamente fuori dalla macchina per cui è fantastico e quindi ho ottenuto dei risultati veramente belli sono molto contenta e ci sto lavorando tanto soprattutto per il ritratto l'autoritratto il ritratto e vorrei fare molto molto di più e uso anche sto imparando molte tecniche alternative anche per modificare il negativo e quindi creare delle opere assolutamente esatto e quindi questo è mi appassiona veramente molto mi appassiona moltissimo davvero è molto è molto interessante ed è anche è proprio bello perché ispira creatività cioè quando fai una cosa te ne viene in mente un'altra ci provi e continui a creare cose diverse differenti e poi è un unicum cioè la foto che esce è soltanto quella e quindi è ancora più speciale cioè dà ancora più valore secondo me ha la fotografia come arte perché per me la fotografia è arte io la considero soltanto come arte nel senso non la vedo guarda non a caso vedi qui è Newton Newton Polaroid perché ciò che avevo visto nelle tue immagini mi ha stimolato di posizionare questo libro tra le altre cose te lo dico Livia se avrai piacere su YouTube troverai un'intervista che abbiamo fatta a Cinzia Battagliola che se non conosci ti consiglio di andare a trovare che è una donna che realizza Polaroid soprattutto autoritratti tra le altre cose molto recuperare la live molto intima lei è una donna meravigliosa anzi la saluto nel caso in cui poi andrà a rivedere questa nostra live sono certo che troverai qualcosa che ti piace all'interno delle sue delle sue immagini sicuramente no no conosco conosco bene Cinzia perché c'è stata una serata con lei con la FIAF e l'ho seguita con molto interesse questo circa un anno fa più o meno eravamo forse durante il lockdown non mi ricordo esattamente il periodo ma è stato molto interessante molto molto brava sì assolutamente c'è Giorgia che dice conosco diverse persone che si sentono come te Olivia che si sentono nate nel periodo storico sbagliato grazie Giorgia grazie grazie mille per questo sostegno abbiamo Andrea Tomicic che è stato anche lui nostro ospite ha parlato di fotografia infrarossi tra l'altro con delle belle narrazioni anche dietro i suoi scatti quindi apprezza le tue immagini vedo qua molte belle queste foto e devo dire che Andrea è molto puntiglioso molto no è uno che sta attento a tutto quanto quindi sicuramente anche un complimento di Andrea è una cosa assolutamente bella secondo me Giorgia aggiunge ma abbiamo bisogno di persone così perché ci danno qualcosa che non no scusa un attimo perché ci danno qualcosa che se no non ci ispirerebbero è ok allora io vado avanti Daniela bellissima anche questa nonostante sia definita e con uno stile diverso rimanda lo stesso ad atmosfera ad altri tempi io ti dico io passo in rassegna e ti dico beh qui direi la messa in scena è corretta negli abiti della posa poi c'è è a metà fra un dipinto e una scultura perché a me ricorda il corpo no un po' sembra quasi di porcellana no liscio è un po' lucido no mi sembra una statua di porcellana mi dà questa sensazione qui sì allora questo è fa parte di una serie che poi dopo ci saranno altre foto di una serie che ho realizzato di un progetto che avevo appunto del pittore Boldini mi sono ispirata a lui pensando a una serata nel suo studio con delle donne come avrebbe potuto interagire fotograficamente essendo pittore essendo la fotografia nata dopo avrebbe potuto interagire con le sue modelle per cui qui è tutto light painting nel senso che è tutto fatto con luci continue e quindi per quello che c'è un make up che ovviamente ha una certa lucentezza e quindi a contatto con la luce dà un effetto che brilla chiaramente e questo risulta nella foto ma è proprio il light painting classico fatto con la torcia che dà un effetto pittorico a volte c'è del micro mosso a volte no e quello dà ancora di più l'effetto ovviamente pittorico all'immagine quindi il micro mosso e il mosso sono parti della mia fotografia che amo molto su cui sperimento tanto e questo crea proprio cercare di realizzare una fotografia che sembri un dipinto è il mio obiettivo è diciamo è quello che mi sono prefissata di fare non sempre ci riesco però insomma nella maggior parte delle volte è quello che mi piacerebbe ottenere guarda secondo me le immagini che osserveremo questa sera che è la scelta che mi ha inviato siamo proprio esattamente in quella direzione lì Andrea giunge apprezzo molto le foto che sono in grado di trasmettere in maniera potente un sentimento e beh ma sai Andrea lo dico soprattutto ad Olivia abbiamo bisogno abbiamo bisogno in questa società totalmente assettica no? abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia questa possibilità di sognare ecco sì io quello che posso dirti è che sono molto molto inclina ovviamente all'universo femminile a tutte le sfumature di emozioni femminili e cerco di interpretarle anche a tratti posso essere malinconica a tratti posso essere cioè la sensualità la malinconia ci sono tante parti di una donna una donna ha tante emozioni io cerco di rappresentarle perché per me non è necessariamente importante fotografare uno sguardo ma a volte è un gesto a volte è un movimento a volte c'è il fascino fa parte di tante cose di una donna e quindi questo secondo me cioè l'universo femminile lo declino lo interpreto in vari modi ma cerco di comunicare un'emozione che la mia visione dell'emotività femminile ecco e questo è anche il mio interesse è proprio a livello quasi antropologico direi in senso quasi a livello di sentimento proprio emozione perché poi alla fine è l'emozione ma guarda a me piace il discorso anche legato un po' alla malinconia no? io credo siano stati stati d'animo che per per noi creativi insomma sono sempre fondamentali sì anzi alle volte si ricerca no? io sai non credo che bisogna essere positivi a tutti i costi non credo che bisogna essere felici a tutti i costi sono sfaccettature della vita no? noi viviamo nell'epoca del selfie dove c'è la menzogna della felicità costante no? ecco ma non è così cioè ma forse ti direi anche forse per fortuna perché poi andrebbe in una qualche maniera a perdere di potenza quando si è felici no? sicuramente ma probabilmente guarda penso la stessa identica cosa e forse non lo è neanche per me nel senso che penso che tu sia la somma di tutte le tue emozioni del tuo trascorso di vita che riesci probabilmente a trasporre attraverso poi se hai la fotografia che ti aiuta chiaramente riesci a trasporre quelle emozioni oppure puoi riconoscere un certo atteggiamento un certo sentimento e magari immortalarlo cioè questo è l'obiettivo però sicuramente fa parte anche della personalità del fotografo questo certamente ecco assolutamente sono emozioni che fanno parte di te che a volte vengono fuori anche istintivamente devo dire senza senza troppo ragionamento perché riesci a coglierle a riconoscerle perché magari hai visto una settimana prima una mostra di un pittore che faccio un esempio Munch che dà un tipo di emozione e quindi tutto quello che tu assimili alla fine fotograficamente viene fuori ecco quello sicuramente io ho notato quello che comunque sono le immagini che vedo ciò di cui mi nutro poi viene fuori all'interno della mia fotografia io ti riporto un po' di commenti che stanno arrivando abbiamo appunto questo di Manu che ci dice mi piace molto l'eleganza delle foto sembra quasi un'eleganza da altri tempi quindi vedi che sei perfettamente in linea con ciò che vai a creare e Inno Art dice a me la depressione artisticamente parlando mi mette tanta fantasia mi stimola a Bobba abbiamo Giorgia che ci dà un wow e c'è anche una domanda da parte di Daniela anzi permettimi Olivia vorrei ringraziare Daniela Valentina Giorgia e anche Sara che fanno parte del direttivo del percorso fotografico che insomma è il gruppo in cui ottengo i corsi di fotografia ma che mi sostengono anche per queste live quindi grazie ragazze di esserci allora Daniela ti chiede indaghi anche antropologicamente le donne di diverse culture e o epoche o per te le donne hanno un'emotività universale bellissima domanda allora direi che no le donne non hanno un'emotività universale assolutamente ogni donna penso che abbia la sua emotività e io cerco di rappresentarla o cerco di cogliere quell'emotività a livello antropologico mi piacerebbe molto fare un lavoro su donne di altre culture di altri paesi è un progetto che ho in testa da molto molto tempo è un lavoro più lungo molto seriale e mi piacerebbe farlo adesso non vorrei spoilerare il progetto però mi piacerebbe farlo ritraendole di schiena perché io amo molto ritrarre le schiene e penso che ciò che è ritratto di schiena può dare molto basandosi sulla corrente del rock and figure che appunto è una corrente pittorica che ritrae le donne di schiena mi piacerebbe farlo nel loro contesto e nel loro ambiente quindi è un progetto che ho scritto un po' di tempo fa e che dovrei continuare anzi iniziare devo dire a fare e proseguirlo nel tempo perché mi piacerebbe fare una mostra riguardo a questo però insomma ancora non ne ho avuto l'opportunità ma insomma arriverà guarda io ti interrompo solo un attimo volevo ringraziare perfido Will che è arrivato con altri è venuto qui a farci un ride con i suoi amici quindi grazie ragazzi per essere passati grazie per essere qui con noi speriamo di farvi buona compagnia poi abbiamo Luca Lavezzo che ci dice la fotografia è una continua sperimentazione dove si dasfogo la propria creatività e soprattutto provare a trasmettere le proprie emozioni attraverso lo scatto e ti fai i complimenti per le belle foto grazie grazie mille una cosa non so se conosci hai avuto l'opportunità noi abbiamo avuto qui ospite anche Ilaria Sagaria Ilaria Sagaria sempre ambiente FIAF diciamo così questa immagine qui di questo piede questo particolare in qualche maniera ma rimandato in un lavoro con cui vinse uno di questi contest FIAF con un lavoro che si chiamava Piena di Grazia anche lei l'abbiamo avuto compiti qui intervista e ci sono secondo me dei punti di contatto perché anche lei ricerca col suo stile chiaramente indaga la donna attraverso la donna ecco quindi questa cosa mi piace mi piace questa cosa che ci sono dei punti ogni tanto che si trovano e si ritrovano mi piace molto questa situazione qui bello non la conosco ma sicuramente la cercherò guarda qui invece arriviamo in un bianco e nero che rapporto hai col bianco e nero e il colore perché la scelta di uno dell'altro è dovuta un po' al mood come ti sei svegliata quel giorno o c'è proprio una scelta stilistica per quel tipo di lavoro no devo dire che amo entrambi moltissimo sul colore studio molto di più perché cerco di mi piace anche molto variare devo dire però cerco più un colore molto pittorico quindi un po' più cupo il bianco e nero invece mi stimola molta più emozione quindi cerco di usarlo molto in vari modi soprattutto in studio mi piace molto giocare con la luce quindi creare mi piace molto il light painting e quindi cerco di creare con specchi luci vari effetti luce che diano movimento all'immagine e quindi insomma diciamo che mi piacciono tutte e due cerco di portare avanti tutte e due non ho un preferito ah ok il bianco no no non ho un preferito perché il colore è quello che magari può dare una certa emozione il bianco nero è un po' più realistico come invece col col colore puoi magari giocare più di fantasia il bianco e nero invece ciò che cioè è bianco e nero e tutte le sue sfumature sono quella la bellezza siccome è più importante la luce ancora di più nel bianco e nero è molto interessante quello che dici perché solitamente si ha l'idea che il bianco e nero essendo un astrattismo essendo che noi non vediamo in bianco e nero sembra legato più a un qualcosa appunto di astratto di sogno invece tu ci hai raccontato un po' la cosa diversa è vero che le tue immagini hanno un viraggio chiaramente innaturale hanno dei colori insomma molto particolari però interessante quindi sogni a colori? io sogno a colori sicuramente sì e trovo molto più difficile essere astratti col bianco e nero perché a volte il bianco e nero a livello di ritratto riesce a essere forse più più realistico è più difficile astrarsi poi tutto fa l'ambientazione lo studio il movimento il vestito cioè ci sono tante componenti che fanno una fotografia l'emozione anche ovviamente quello che la modella può dare insomma ci sono tante 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 componenti però per me è importante proprio anche il gesto il classico beugeste in francese cioè proprio il gesto e l'importanza che quello ha rispetto a come la donna si sente in quel momento perché cerco di cogliere proprio quel momento di magari sensualità o quel momento di astrattismo verso proprio un fotografo perché poi quello quello sguardo sognante quel mi piace proprio immaginare quello che la persona che sto fotografando sta pensando o in quel momento in quell'istante quindi cerco proprio di cogliere un attimo magari quello sguardo quel momento o quell'istante e dico cosa starà pensando in questo momento e mi piace molto coglierlo più che sono essendo io forse molto timida sono più un po' wireista come atteggiamento quindi mi piace più cogliere il non detto rispetto a magari uno sguardo penetrante che a volte può dare emozione a volte magari non necessariamente mi piace più l'ambientazione romantica delle situazioni quindi o il fatto di magari cogliere qualcosa che sta succedendo ma che non necessariamente è in posa ecco a volte la posa non mi piace tantissimo e quindi cerco di cogliere questi momenti che possono magari a chi li guarda raccontare qualche cosa o magari no però insomma questo è quello che che mi piace cogliere poi chiaramente il movimento aiuta a creare l'atmosfera molto più romantica molto più surreale però non è necessariamente il bianco e nero è anche il mezzo fotografico e la tecnica che utilizzi per arrivare a quell'obiettivo ecco senti ti faccio una domanda prima di leggere il commento di Valentina no è chiaro che qui c'è la messa in scena di sentimenti di emozioni mentre realizza gli scatti senti che riesci alle volte esorcizzare quelli che sono le tue tensioni le tue emozioni quando fai lo scatto poi magari lo riguardi che tipo di sensazioni provi fra fare lo scatto il piacere dello scatto di per sé e poi il risultato ottenuto provi sensazioni diverse trovi che hai lasciato qualcosa in quell'immagine in cui ti sei magari liberato o magari ti sei arricchita scattandolo ecco per me queste sono sai quelle cose importanti nella fotografia che ti fanno sentire vivo no ti mettono in discussione eccetera sarei curioso di sapere il tuo punto di vista allora diciamo che all'inizio quando si inizia a fotografare è quasi un allenamento perché parte un pochino adesso è ridicola come cosa però io lo penso è un po' parte un po' a freddo nel senso che all'inizio devi entrare nella scena devi entrare nell'ambiente devi entrare in quella in quel momento devi cercare di guardare intorno a te e capire anche cosa c'è intorno a te e poi chiaramente interagire con un soggetto non è sempre semplice per cui io sono molto sono lascio molto fare nel senso che do delle direttive ma mi piace molto che la modella o chiunque davanti anche cerchi di mostrare se stesso e io cerco di cogliere quell'atteggiamento quello sguardo quella emozione che questa persona mi sta mi sta comunicando è una sorta di gioco di seduzione alla fine come diceva anche il grandissimo Giovanni Gastel cioè se sono riuscito a compiere se sono entrata in connessione con la persona a livello seduttivo il risultato lo ottengo se no come dice lui fotografo il muro nel senso che è questa la cosa bella per cui esatto la chiave per me cioè quella persona mi sta seducendo in quel momento che chiunque essa sia per questo cercando di magari rappresentarla come io la vedo o come o l'emozione che ha dato a me poi è chiaro che mentre sto facendo lo scatto e mentre guardo l'inquadratura arrivo a un punto in cui dico ce l'ho quella mi piace ho il mio scatto poi dopo li riguardo a casa la cosa più difficile è sicuramente la selezione per me è un'agonia la selezione perché mi piace cioè proprio perché cerco anche di partire da un frame e cercare di lavorare su quel frame cioè se mi piace una posizione o un gesto o qualcosa che la modella fa poi ci lavoro su quella parte continuo a fotografare quasi in serie quasi come dei frame di un film e poi riesco fino magari anche un po' a spinire il soggetto per poi arrivare magari a ottenere qualcosa di diverso qualcosa di più ecco quindi sono un po' particolare nei miei no ma ti è mai capitato in fase invece di appunto selezione e sviluppo di scovare qualcosa che magari mentre scattavi ti è sfuggito nel senso hai fatto quegli scatti e eri concentrati su un altro particolare e poi trovi che magari c'è qualcosa di più interessante che magari non ci avevi fatto caso in maniera inconscia sei andata a scattare e poi hai trovato un attimo assolutamente assolutamente mi è capitato e succede molto spesso con il mosso la tecnica del mosso fotografico e del micro mosso è un po' un trial and error passami il termine in inglese è un via tentativi come il light painting perché il light painting quando hai 30 secondi tu pensi di aver raggiunto un obiettivo poi guardi in macchina e dici no e quindi devi rifare rifare io sono allora per me la fotografia equivale a ossessione decisamente io penso che per me la fotografia è esattamente ossessione per cui io insisto insisto finché non ottengo un risultato però uso due tecniche che mi lasciano lasciano un po' il tempo che trovano perché non vedi nell'inquadratura quello che stai fotografando lo vedi dopo e quindi c'è anche l'elemento della sorpresa ed è molto bello è molto affascinante sicuramente senti mi ricorda molto anche un po' Saramun guarda mi hai proprio detto è l'amore della mia vita mancato mi piacerebbe tanto conoscerla perché è ancora vivente Saramun se sei in ascolto mi piacerebbe tanto poterla conoscere perché io sono sono innamorata di Saramun Saramun per me è veramente un mito un mito assolutamente condivido sì quindi io la seguo molto conosco ma penso di avere tutti i suoi libri e la riguardo la guardo la riguardo e dico come avrà fatto quella fotografia e quindi cerco di provare con la mia conoscenza ad arrivare a ciò che magari può avvicinarsi al suo stile però mi è proprio quasi mi è proprio congeniale cioè mi vengono anche distinto proprio così quindi io guarda ti dico Saramun non la conoscevo poi ho fatto un percorso allora parto dal presupposto che io ho iniziato a fotografare da poco prima facevo tutt'altro non ero fotografa avevo una famiglia che non voleva che fosse una creativa per cui quando mio padre è venuto a mancare quindi è stato un episodio molto doloroso della mia vita che era la persona che non voleva che io fossi creativa lì è scattato qualcosa in me dentro e ho iniziato lavoravo ho fatto il corso serale dello IED mi sono iscritta non sapevo neanche tenere la macchina fotografica in mano e non conoscevo la luce scattavo distinto e ho imparato tutto e da lì poi sono partita la mia creatività è quasi non so come dirti è stata una catarsi è uscita e non sono più riuscita a fermare quel flusso di creatività che per anni ho tenuto rinchiuso e quindi questo mi ha dato lo stimolo per fare tante cose allora io ne approfitto leggo qualche commento intanto ti dico che è un piacere ascoltarti grazie è un piacere ascoltarti allora Valentina ci dice la delicatezza l'eleganza e la sensualità che una donna porta fotograficamente nel ritrarre storie di donna è unica complimenti Olivia grazie c'è Inno che dice il mosso è uno snervo ma quando esce come l'è in testa è tanta soddisfazione verissimo allora salutiamo intanto Mars che è arrivato ciao Mars come stai poi Andrea dice questa foto è molto bella mi piace molto Vale sempre aggiunge è vero Saramone l'abbiamo studiata ad un percorso sulla storia della fotografia è un corso che ho tenuto insomma qui quindi mi piace attenzione che abbiamo anche Riccardo Riccardo Lancia che è venuto qui a trovarci che bello ciao Riccardo Riccardo benvenuto grande maestro Riccardo grande maestro anche inno maestro buonasera che abbiamo avuto la settimana scorsa la settimana scorsa qui su interviste creative insomma Olivia qui vediamo invece una situazione in cui il soggetto è assolutamente a fuoco e qui si sposa quello che ti dicevo prima c'è sempre tanta teatralità in questo caso contestualizzata in questo caso ovvero in un ambiente che possiamo riconoscere ecco però sempre con quell'eleganza quella un po' di sensualità no che comunque rimane all'interno di tutti i tuoi di tutti i tuoi scatti e questa Olivia no che vediamo in questo caso a fuoco dove si colloca nella tua storia fotografica verso gli ultimi lavori che hai realizzato i diversi primi lavori dove si colloca allora sicuramente forse all'inizio allora all'inizio facendo un percorso scolastico dove ho imparato chiaramente ho scoperto la fotografia e tutto il suo mondo all'inizio ovviamente il soggetto ero io perché avevo bisogno di imparare su me stessa per esempio l'autorità io lo considero una disciplina molto molto importante per imparare la luce per imparare anche a rapportarsi con gli altri perché comunque se riesci a fotografare te stesso poi puoi anche cercare di rapportarti con gli altri migliorare conoscere se stessi è importante quindi ho iniziato così perché avevo bisogno di imparare certe cose e mi ha aiutato molto a imparare la luce per esempio lo studio della luce per me è importantissimo poi col tempo e con varie esperienze da workshop e tante altre cose ho imparato a scattare in modo diverso ho imparato vari tipi di luce per esempio nello scatto precedente comunque era Palazzo Cerbelloni quindi la location aiuta tanto rispetto a cioè a creare questo ambiente sognante perché non è che capita a tutti i giorni permettimi però di aggiungere una cosa aiuta se la sai sfruttare perché altrimenti è sempre no? guarda sono ambienti molto molto ampi per cui è molto difficile qui c'erano comunque tre luci e c'era anche della luce naturale per cui più la luce del lampadario quindi c'erano un mix di luci importante e quindi bisogna un attimo gestire gestire la luce però questa immensità di questa sala napoleonica e lei in mezzo così davano già una grande emozione quindi già partendo quell'emozione che hai dentro in quello che vedi poi cerchi di scattare di cogliere il momento perfetto ma a me piacevano moltissimo le sue mani e quindi per me il famoso pum tum è lì cioè l'emozione parte per me l'emozione è da quel tocco che lei mi ha dato in quel momento e con tutta la sua sensualità all'interno ovviamente di un ambiente fantastico e quindi insomma quello mi piace molto ritrarre da dietro di schiena è una mia caratteristica ma sai poi aggiungo il discorso che ho accennato prima forse ne abbiamo parlato proprio anche con Riccardo spesso quando fotografi una bella ragazza un bell'uomo una bella location si ha sempre il rischio si può correre sempre il rischio che poi la fotografia la facciano loro che uno guardi l'immagine e fa che bella ragazza oh che bella location è sempre interessante che poi una persona quando guardi guarda le nostre immagini dica che bella fotografia in questo caso Olivia hai fatto proprio un ottimo lavoro secondo me perché non dico che passi in secondo piano che la ragazza è bella ma quello che io trovo è la tua sensibilità ecco no guarda ti ringrazio io penso che bisognerebbe forse fare una distinzione perché io non sono una fotografa commerciale quindi allora se tu hai un lavoro ovviamente commerciale dal punto di vista moda probabilmente ci sono certi scatti che tu devi ottenere devi portare a casa io sono ho lavorato negli ultimi anni per la fotografia artistica cioè io tendo a fare concorsi mostre cioè mi interessa molto quell'aspetto e per cui forse ho più libertà nel cogliere certe emozioni che magari non andrebbero bene per una fotografia ovviamente da da editoriale chiaramente quindi faccio più fatica a essere editoriale ma riesco forse a essere più artistica nella mia nella mia fotografia ed è ed è il percorso che vorrei intraprendere però è chiaro che devo imparare poi a gestire tutte e due le cose perché comunque a livello commerciale faccio molto still life ma molto meno moda sicuramente certo io ti riporto anche qui qualche commento che arriva l'ho evidenziato un attimo fa ma lo rimetto Giardino di Lory intanto ciao e benvenuto Giardino di Lory dice se era le mani la prima cosa che mi hanno attirato lo sguardo ovviamente riferendosi all'immagine precedente Seba invece ci dice una sensibilità una cura per il colore e per i dettagli che può essere solo femminile complimenti davvero e il nostro inno dice tra l'altro per le mostre forse sì e anche più stimolanti a livello di tema esatto sicuramente allora io passo pian pianino un po' le immagini le scorriamo e le vediamo chi è mai invece è capitato di questo è un tema un tema a me caro è una curiosità che ho e che pongo un po' a tutti qualche volta grandi aspettative grande organizzazione poi vai lì e non riesci ad entrare in sintonia con il modello la modella con te stessa indifferente insomma c'è qualcosa che magari non va e non porti a casa il risultato sperato una cosa che ti è mai capitato o in fase di scatto o in fase di sviluppo delle immagini allora mi è capitato raramente ma mi è capitato una volta sola con una modella tra l'altro una grande cioè una professionista che quel giorno proprio non aveva nessuna intenzione di essere disponibile allo scatto e quindi è stata è stato è stato difficile trovo anche molto mi è capitato anche di fotografare più fotografi un soggetto e di di avere difficoltà come donna a entrare in connessione con un soggetto femminile rispetto a un uomo perché anche quello cioè noi donne siamo un po' una minoranza in questo e a volte abbiamo più difficoltà perché chiaramente ci sono dei dei moduli seduttivi nei confronti di un uomo nei confronti di una donna che cambiano e quindi se sei una professionista dovresti essere chiaramente uguale per tutti però capita a volte di avere a volte esatto che non sia così però insomma però lo scatto bene o male l'ho sempre portato a casa magari ho cercato di cambiare o di parlare alla modello o cercare di farle fare cose diverse o di lasciarla libera nel fare certe cose se si sentiva obbligata a dover fare le cose che le dicevo io quindi insomma cerchi sempre di trovare una soluzione se puoi alla fine ho comunque portato a casa lo scatto ma non ero così soddisfatta ovviamente con il potenziale che questa persona aveva e non sono riuscita a entrare in totale connessione con lei è capitato sicuramente non ho mai fotografato un uomini però potrei iniziare ah ecco mi hai anticipato una domanda che volevo che volevo porti dopo ma la prendiamo dopo la prendiamo dopo ok ok scusa parliamo sempre di messi in scena durante i tuoi scatti no la messi in scena è una pratica che a me a me piace molto non per niente nelle nelle messe in scena io adoro la l'emileboviz la chapelle insomma tutti quegli artisti che insomma anche un po' eccessivi no alle volte però la costruzione di un'immagine da dove parte al di là dell'emozione no che sicuramente deve essere il mood che poi muoverà un po' il tutto ma poi quale come ti muovi la location o anche se appunto sappiamo che può essere indefinita l'abito il make up l'acconciatura da dove parte Olivia quando vuole creare una messa in scena ma Olivia parte da un'idea principalmente ti faccio l'esempio dell'appunto del progetto di Boldini faccio primo chiaramente uno studio iconografico su tutta l'immagine che sto cercando quindi poi crea un mood board e da lì poi mi sposto verso la ovviamente collaboro magari con uno stylist oppure anche magari mi è capitato anche di farlo da sola di creare gli abiti da sola insomma faccio un po' tutto quando il budget anche perché ripeto se devo fare una foto per un concorso e non ho budget faccio tutto io quindi il set lo creo io i vestiti meno male li creo con quello che ho in testa arrivo all'obiettivo poi invece se invece è un workshop o un servizio fotografico oppure è un budget un po' più alto allora riesco magari a fare cose diverse però parto sicuramente dall'idea da quello che ho in testa poi da un wallboard poi dico vabbè magari vorrei fare un progetto tutto sul set hollywoodiano quindi luce old hollywood vado a vedermi tutte le foto dell'hollywood degli anni 30 anni 40 anni 50 vado a vedere dove colpisce la luce come posso ottenere quel risultato che tipo di vestiti ci sono insomma e poi ci vuole ovviamente devi pensare a cosa che tecnica ti dà quel risultato chiaramente quindi l'abito di paillettes se deve brillare devi avere un filtro stella e cercare di ottenere un certo punto per avere quella brillantezza ci sono poi anche tutti gli elementi tecnici quindi prima si prepara il tutto e poi si scatta però ci sono c'è un insieme di cose su cui lavoro ecco per ottenere risultato e guarda io stanno arrivando un po' di commenti e questo è molto bello perché crei dibattito e qui c'è Sarpedonte che dice buonasera posso chiedere ad entrambi se c'è differenza a fotografare uomini e donne anche solo come aspettative se non solo come aspettativa se non fatto qualcosa magari avrà sbagliato qualcosa di scrivere comunque tu c'è che non hai ritatto non hai mai ritratto uomini o mi è capitato una volta solo per un progetto appunto del master che frequentavo gli ed e quindi ho fotografato per il mio progetto finale un ragazzo che conoscevo che era un ballerino ma è stata l'unica volta poi non ho mai fotografato ho ritratto anche un altro uomo sì ho fatto dei ritratti ma mi è capitato raramente e quindi ho meno esperienza nel ritrarre un uomo ma penso che non ci sia assolutamente nessuna differenza è chiaro che con la donna magari possono giocare cioè diciamo l'ambientazione il vestito è tutto diverso un uomo magari ci sono meno elementi però non è neanche detto perché insomma anche nei servizi di oggi nella moda di oggi ci sono tante opportunità anche per gli uomini per cui mi piacerebbe farlo di più ecco imbarcarmi in quel in quel tipo di progetto per vedere che cosa riesco a ottenere però penso che non ci sia differenza tra fotografare un uomo e una donna assolutamente allora se do anche il mio parere visto che mi è stato chiesto dipende dipende sempre poi di chi appunto ti si palesa davanti durante quel servizio fotografico io devo dire che le volte mi sono trovato a fotografare degli uomini che già semplicemente osservare uno sguardo le mani un po' segnate eccetera ritenevo molto molto interessante quindi si dipende dipende come dipende dal fotografo che ritrae la persona dipende anche della persona come poi è disposta o meno lasciarsi andare a farsi ritrare a stare alle regole anche perché ricordiamo io la disponibilità di avere dei veri propri modelli chiaramente non è una cosa così banale o scontata servono budget servono cose quindi poi ci si affida spesso a quello che conosci quello che si dà disponibile le volte escono delle cose anche eccezionali anzi ne parlavo con Riccardo la settimana scorsa i modelli e le modelle poi sono famosi per quelle due tre quattro espressioni che hanno consideriamo che gli attori più famosi anche lì hanno quelle espressioni eccezioni fatte per Jack Nicholson che magari ne ha qualcuno in più però spesso invece da chi non sa tra virgolette posare c'è quell'incognita che alle volte si rivela bellissima perché sfugge un po' è una variabile impazzita che può sfuggire un po' dal tuo controllo c'è Giardino di Lorid che dice Olivia in quale location se potesse scegliere farebbe alcuni scatti? qui si apre un mondo infinito potrei sicuramente mi piacerebbe tanto fare uno scatto proprio è proprio uno dei miei desideri un luogo magari di una villa abbandonata mi piacerebbe tanto poter trovare un luogo in Italia ma so che ce ne sono questi luoghi abbandonati meravigliosi con queste sale pittoriche lasciate andare proprio ne ho visti tantissimi e mi piacerebbe per esempio fare un fare del nudo all'interno o fare anche insomma di idee ne ho tantissime purtroppo è uno dei miei problemi che ho tante idee oppure magari in contrasto con i colori con dei vestiti molto importanti giocare con però l'idea del non luogo e anche dell'idea di quel luogo un po' di roccato che faccia parte un po' della tua interiorità a contrasto con qualcosa o di molto bello oppure di proprio di mettere a nudo la propria interiorità quindi mi piacerebbe molto fare un progetto del genere ecco quindi sicuramente un luogo abbandonato molto molto bello lasciato andare mi piacerebbe anche farlo in posti meravigliosi ma non ne ho l'opportunità per adesso però insomma anche in una serra mi piacerebbe tanto fare un altro progetto mi piace molto perché la luce li filtra in modo diverso per cui ci sono delle serre in Francia che sono spettacolari e mi piacerebbe anche fare qualcosa in serra con tanti fiori insomma tante cose mi piacerebbe fare senti Olivia quello che mi colpisce molto da quello che ci stai raccontando è il tempo che tu dedichi alla preparazione degli scatti prima mi ha colpito molto se devi fare un tipo di fotografia che attinge a quel determinato periodo così vai a rivederti film foto guardi come la luce veniva utilizzata come dovevano essere gli abiti come doveva agire la luce su quei tipi di lustrini e tutta sta roba qua allora considerando che la giornata ha 24 ore no e come è suddivisa la tua giornata nei momenti creativi lasciamo stare il lavoro che quello deve essere fatto bla 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 mettiamolo un attimo da parte nel momento in cui tu hai finito e hai portato il pane a casa quanto tempo tu dedichi alla ricerca quanto allo scatto e quanto allo sviluppo se possiamo dare le percentuali se io ti chiedo queste cose qui che ovviamente saranno sempre variabili in base ai lavori perché ritengo che magari chi ci segue magari si innamora un po' del tuo genere fotografico e magari si vorrebbe avvicinare vorrebbe approcciarsi però ci tengo a sottolineare che dietro c'è tanto lavoro spesso si pensa che fare la fotografia boh ma cosa cosa ci vuole prendo la macchina fotografica faccio quattro click e siamo a posto ecco andiamo un attimo diamo valore a questa forma di creatività quanta preparazione c'è? allora c'è tantissima preparazione ti faccio un esempio a proposito di Polaroid ho fatto un servizio fotografico due settimane fa è basato su una mia idea e volevo provare a fare ritratto con la Polaroid non mi era ancora capitato e insomma quello che si pensa vedendo questa fotografia o altre fotografie è che tu abbia quattro o cinque assistenti cosa che assolutamente è fuori esclusione io posso dire che con lei che mi aiuta è quella santa donna di mia madre che ha una certa età e che quindi faccio correre davanti e indietro e devo dire che lei ha lavorato nella moda per tanti anni per cui ha degli ottimi consigli ha una visione a livello di styling veramente eccezionale per cui mi aiuta molto e quindi la preparazione sta nel fatto che faccio tutto io quindi gli abiti li ho scelti io li ho stirati io adesso per dire proprio parto da un'immagine iconografica quindi studio tutti i quadri studio ho fatto questo servizio fotografico per partecipare a un concorso per me molto importante che ha a che fare con il vintage per cui ho detto cosa c'è di più bello della Polaroid per farlo e quindi ho lavorato ho usato i miei vestiti li ho stirati li ho preparati ho preparato il set ho preso i tessuti io quindi ho fatto tutto 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 io da l'A alla Z e ci ho messo due settimane di lavoro preparatorio per arrivare allo shooting senza intoppi anche se intoppi poi ci sono stati chiaramente perché la fotografia questo lo ricordo a tutti è problem solving alla fine quindi quando tu ti trovi davanti a una situazione in cui per esempio faccio un esempio banale però è giusto anche farlo ho preso dei backdrop che erano troppo corti e ho dovuto risolvere comunque il problema lì sul momento perché non l'avevo calcolato certo quindi e quindi alla fine se vuoi portare a casa lo scatto devi arrangiarti e soprattutto se sai fare adesso io avevo una nonna dorata che diceva chi sa fare sa anche come andare nel senso che se sai fare poi sai anche se con l'esperienza che hai e quello che costruisci poi alla fine quell'esperienza ti porta a risolvere un problema ma perché hai già lavorato prima e quindi questo secondo me è fondamentale la preparazione è veramente è tutto quello che è più importante rispetto allo scatto perché poi quando sei lì devi solo scattare ma se tu ti sei preparato bene lo scatto non può non venire bene ecco questo sicuramente cioè se non improvvisi le cose succedono c'è Giardino di Lorid che ti vedrebbe bene in uno scatto ti vedrebbe ti consiglierebbe probabilmente uno scatto a Parigi nell'edificio c'è scritto 59 rivoli a Parigi grazie c'è Daniele invece che ti chiede hai detto che hai tante idee come funziona nel tuo processo creativo segni le idee ti vengono casualmente o in genere scatturiscono da riflessioni allora questa è una bellissima domanda nel senso che come vengono idee a volte mi arrivano da dei sogni lo so che è incredibile ma mi succede perché magari sono talmente magari impressionata quel giorno magari sono andata a vedere una mostra e quella mostra mi è rimasta talmente impressa che poi magari da lì sogno qualcosa che magari è un minimo differente ma poi per esempio ho un taccuino di fianco al letto sul comodino se mi sveglio trascrivo subito se me lo ricordo poi vabbè il giorno dopo lo scrivo però ecco i sogni sono una cosa importante poi sono tutto quello che fa parte delle mie passioni ovvero amo molto il cinema amo molto la pittura per cui sono ispirata tantissimo dalla pittura vado a vedere tantissime mostre sia di fotografi che di pittori direi che non me ne perdo una se ho l'opportunità anche di ciò che non conosco e che magari anche magari di ciò che non riesco a capire perché cerco sempre di sono molto curiosa per cui vado a vedere tutto quello che può darmi nutrimento alle idee ma soprattutto nasce molto dalla passione dipingo da quando sono piccola per cui anche la pittura per me è stata fondamentale il cinema a volte addirittura la poesia mi ispira tantissimo perché riesco a trasportare ciò che la parola scritta magari in un'immagine anche leggo molto la musica mi ispira tantissimo tutti i generi ascolto tutti i generi di musica le parole della musica anche mi ispirano idee tantissimo insomma veramente prendo ispirazione da tutto ciò che sono le mie passioni sono anche molto appassionata di fiori per cui li ritraggo anche in modi diversi la natura sono veramente appassionata di tante cose queste cose visivamente mi condizionano molto ecco ed è importante comunque spaziare al di là della fotografia per cercare di trarre ispirazione per i propri scatti e quindi ho tantissimi libri riguardo immagini costantemente sono anche ispirata da devo dire che Instagram mi ha aperto un mondo sull'illustrazione ci sono tanti bravissimi artisti che fanno delle opere meravigliose e a volte quelle sono fonte di ispirazione per le mie fotografie a volte comunico con l'artista lo ringrazio dico guarda vorrei fare una foto che è ispirata da un tuo disegno mi capita anche quello anche le anime giapponesi il mondo del sono appassionatissima di tante 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 cose guarda Olivia io non posso che mandarti un grande abbraccio per quello che hai appena detto perché quando ho creato percorsi creativi che se noti non c'è percorsi fotografici in questo caso ma percorsi creativi al plurale era proprio perché io reputo che l'ispirazione possa arrivare derivare ed essere stimolata proprio da tante forme creative quindi questo è il motivo per il quale all'interno del canale abbiamo ospitato appunto degli illustratrici abbiamo ospitato di musicisti abbiamo ospitato di scrittori abbiamo perché ricercare l'ispirazione fotografica solamente nella fotografia secondo me è riduttivo e tutte le persone che ho intervistato a cui ho posto questa domanda dei fotografi a cui ho posto questa domanda l'ispirazione arriva sempre prima da qualcos'altro poi sicuramente si vanno a vedere le mostre di colleghi e come dici tu anche magari si spulcia un po' Instagram sicuramente arriva qualcosa ma una frase un brano quel tipo di atmosfera quella scena del film o indifferente anche semplicemente colloquiare con una persona il giorno prima ti rimane qualcosa nella testa che ti fa pensare sì no anche perché volevo aggiungere un'altra cosa che poi alla fine in fotografia è già stato fatto tutto per cui essere veramente creativi in fotografia è molto difficile perché faccio esempio il light painting voglio dire Paolo Roversi è stato uno dei promotori del light painting ma il light painting risale a Man Ray a Picasso cioè i primi tentativi sono stati fatti da loro per cui insomma voglio dire ci vuole anche secondo me anche una certa cultura nell'affrontare la propria cultura personale aiuta anche poi a avere una visione più ampia più ampia sicuramente sicuramente l'interesse che tu hai per certe cose c'è Giorgia che in forma polemica chissà se ci sta tutto il messaggio dice assolutamente d'accordo sull'affermazione problem solving anche se molti pensano che sia solo un click il famoso che ci vuole basta fare un click posso farlo anche io dal cellulare aggiunge anche si possono picchiare queste persone c'è un attenuante se vuole una mano tra l'altro prima scusa ti dico una cosa prima mi sono perso che il no art si era proposto come modello per te io te lo dico è anche un bel ragazzo quindi secondo me caschi bene caschi bene va benissimo va benissimo Andrea come ti dicevo prima scusa che quello tecnico un po' così ti chiede la domanda di prima sicuramente la rimettiamo e ti chiede in questa foto hai forse usato obiettivi decentrati come lens baby no assolutamente era un canon era un 90 quindi sì un 24-105 no 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 classicissimo no 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 li conosco i lens baby li ho provati e ogni tanto li utilizzo ma non in questo caso no 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 Valentina tra l'altro legato a questo scatto dice wow la luce che esce della porta socchiusa apre un immaginario pazzesco bellissima sì era proprio una luce con un filtro rosso dietro una luce flash dietro e quindi è stata una cosa differente perché qui ovviamente era una sala molto molto romantica e quindi creare un po' un effetto un po' quasi più misterioso non è stato semplice perché chiaramente poi c'erano anche delle finestre dall'altra parte che erano molto ampie per cui anche coprire la luce calibrare i flash poi non è stato semplice all'inizio però era era per creare un'atmosfera e collegarla al vestito che il vestito era veramente una scultura un'opera d'arte e per valorizzarlo e dargli un effetto un po' così più misterioso più come se ci fosse un'altra entità all'interno si evanescente quasi sembra l'abito esatto quasi che stiamo volando via lei che si accorge fino all'ultimo quasi un sospiro in un certo senso assolutamente assolutamente questo è sempre aspetta si no no vai vai tranquillo vai 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 questo è sempre light painting questo è sempre light painting è sempre ovviamente diciamo che nelle mie fotografie molto protagonisti sono gli abiti chiaramente ecco anche lo studio degli abiti cioè cercare un abito che abbia una certa fluidità che si muova che si muova bene davanti all'obiettivo e che crei un certo effetto perché qui riempie tutto il frame è sempre light painting quindi sono tutte luci fisse non c'è flash non c'è nulla quindi ci vuole la bravura di chi ti aiuta ovviamente a illuminare nei punti giusti perché tu da solo non puoi farlo e poi chiaramente c'è tutta la parte mossa e poi c'è la bravura della modella nel gestire l'abito e cogliere poi il momento più opportuno però ecco l'abito fa tanto fa tanto fa veramente tanto io sono anche molto appassionata di abiti di costume di moda insomma ho fatto anche un corso di styling tanti tanti anni fa che mi ha aiutato molto e insomma conservo tutte le mie esperienze e poi le ho riportate nella fotografia sicuramente e mi ha aiutato molto allora intanto saluto l'inaos che è arrivato ciao l'inaos mi fa piacere vederti qui e il giardini ci spiega giardino scusa ci spiega che 59 arrivo lì è una galleria d'arte autogestita da persone senza biglietto di ingresso che occupa tutti i sei piani di questo edificio nel centro di Parigi gli artisti hanno dipinto anche le pareti e alcuni pavimenti ma molto carina ecco che meraviglia posso dire che meraviglia grazie per questa informazione che non conoscevo quindi lo ringrazio perché vedi si impara sempre qualche cosa si impara sempre qualcosa vedi l'importanza di questa piccola rubrica che bello assolutamente grazie a tutti volevo ricordarvi chiaramente chi magari si approccia per la prima volta qui su Twitch e potete interagire con noi attraverso la chat potete interagire lo metto qui in sovrimpressione tramite il nostro canale Telegram di Percorsi Creativi dove potete lasciare un audio che poi faremo ascoltare a fine serata un'altra cosa importante per chi ha piacere a Prime Amazon Prime può abbonarsi al nostro canale quindi sostenerci in maniera completamente gratuita chi non avesse Prime ma secondo lui reputa che 4 euro al mese sia un buon investimento per noi può farlo tranquillamente eviterà così la pubblicità che viene messa all'interno del nostro canale noi non possiamo comandare questa cosa e Twitch che li inserisce nel momento in cui diventiamo dei canali affiliati quindi togliete la pubblicità e supportate in una qualche maniera il nostro canale insomma quindi grazie a chi magari avrà piacere di sostenerci quindi molto Salamone comunque anche in questo scatto qui io la ritrovo tanto ed è un bel ritrovare perché è un'autrice che non è molto conosciuta e non è neanche molto almeno si parla ovviamente in una percentuale in generale non è nemmeno tanto trattata mentre c'è stato un periodo in cui vedevo molto un po' presa la Woodman un po' come tipo di scatto eccetera tanto riproporso tanto nudo tante cose così invece Salamone è forse meno commerciale è arrivata meno in Italia non so quante mostre si siano fatte a che livello guarda Salamone è davvero pazzesca perché ha un'interiorità incredibile lei ha tutta una sua filosofia sul mondo della moda perché faceva degli scatti che erano poco moda ma ha creato un tipo di moda perché effettivamente lei vuol dire la campagna di Cacciarella Anais Anais l'ha creata lei per cui ha lavorato in Francia essendo francese quindi è molto conosciuta e rispettata in Francia magari negli altri paesi europei non è così conosciuta però a livello di gallerie e su sue opere invece ci sono tantissimi tantissime gallerie che vendono le sue opere ed è molto molto apprezzata come fotografa artistica però ha un approccio totalmente differente anche lei non necessariamente fa lo scatto moda però è riuscita a creare un immaginario che non esisteva prima e ha quel mosso che lei simpaticamente dice perché non ci vedo bene e mi ha fatto vedere questa frase bravissima bravissima mi ha fatto veramente veramente tanto 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 cioè ridere perché mi dice nelle sue interviste lei dice ma io scatto così perché effettivamente non vedo bene però magari vederci non bene come lei esatto certo certo senti guarda Carlotta Carlotta qua ti dice sei il top per diventare una grande fotografa dovevo assolutamente leggerti leggere ragazzi grazie mi sento io mi sento imbarazzata vi ringrazio che bei tagli di luce cioè bellissimo che belle ombre allora questo è veramente un ritratto proprio cioè lì qui mi sono ispirata un po' Irving Penn un po' ai suoi ritratti un po' particolari però devo dire che qui abbiamo usato adesso tecnicamente il cinefoil proprio con la luce e abbiamo cercato di creare vari scatti muovendo il cinefoil e poi ripeto lì c'è tutta una serie di scatti ma quando arrivi poi a questo e vi dici ce l'ho perché quello dici è l'emozione che è il momento che hai colto e dici questa mi emoziona però ci sono altri scatti dove lei si vedono solo gli occhi insomma c'è tutta una serialità riguardando le fotografie esatto una serie e devo dire che questa però cioè lei aveva questo sguardo un cerbiato praticamente quindi non ho potuto non cogliere questa bellezza sua ma anche questo mistero fondamentalmente bravissima comunque era una una ragazza molto silenziosa però quegli occhi non so parlavano per cui insomma mamma mia che scatti che scatti Olivia anche questa cosa qua è bellissima questo questo sì è un dipinto questo ci sono veramente affezionati un attimo sì questo è proprio guarda questa posso dire che si chiama Le Ponton ma è preso ovviamente dalla primavera perché vabbè Botticelli mi ha ispirata qui è stato sempre uno scatto che ho fatto nel progetto Boldini poi ho in questo caso ho fatto una doppia esposizione quindi poi ho scattato il backdrop che avevo e ho messo insieme le due fotografie perché avevo in testa Botticelli niente quando una ha in testa qualcosa deve realizzarla in suo modo quindi è la mia interpretazione della primavera di Botticelli sempre con un po' di malinconia per ciò che è la primavera poi perché insomma la primavera è gioia ma è anche è un risveglio è un'emozione differente insomma i colori i colori che si anche qui si ispirano molto al pittorico sempre al pittorico del del cinquecento ecco quindi insomma qui ci sono unite quasi tutte le mie passioni ecco sicuramente è sempre light painting eccetera allora noi diamo intanto la buonanotte a Giardino che ci saluta notte buona continuazione che domani la sveglia alle cinque quindi grazie per essere stato con noi in nostra compagnia e Sarpedonte chiedeva come era stata realizzata questa immagine ma hai già dato una spiegazione a riguardo allora intanto ti chiedo anch'io un qualcosa no? tu il tuo processo creativo no? una volta terminato lo scatto e sei sono solitamente due fazioni no? diciamo così io sto un po' in mezzo però sei Lightroom Photoshop Bridge Photoshop oppure non utilizzi di nulla utilizzi Affinity o altri software per lo sviluppo dell'immagine allora io utilizzo sicuramente Photoshop per correggere la parte diciamo pelle insomma la correggo correggo quella parte dell'immagine Lightroom per la luce e poi uso anche Exposure mi trovo molto bene con Exposure che è un software che dà molte opzioni di luce di diversi di diverse anche pellicole fotografiche di simulazioni mi piace molto giocare anche con quello a volte invece addirittura le allora questa è una cosa forse difficile da comprendere perché lavoro anche molto sull'immagine cioè ovvero le stampo e poi magari le pitturo modifico le riscatto cioè creo lavoro molto a livello creativo anche artistico sull'immagine mi capita anche per ottenere un effetto vintage a volte faccio stampare la foto in laser con la stampante laser che io non ho e poi ci lavoro anche a livello di le danneggio le insomma le pitturo faccio uso varie tecniche e le rifotografo anche a volte uso l'acqua a volte le immergo nell'acqua a volte uso sulla carta fotografica lavoro lavoro molto uso varie tecniche e sperimento tantissimo io vedo che c'è tanta ricerca nei tuoi scatti qui c'è c'è un videoproiettore c'è qualcosa che proietti sulla modella cioè è incredibile questa cosa che hai Olivia perché rimani sempre credibile che tu realizzi delle immagini appunto con lo stile mosso che tu realizzi delle immagini un po' più patinate in stile moda che ti sposti dal colore al bianco e nero che fai una ricerca un po' più così particolare come l'idea di videoproiettare qualcosa è incredibile il fatto che tu riesca ad essere sempre credibile perché solitamente una persona poi trova un proprio genere no un proprio settore dove poi lo fa e qua sembra che tu in ogni settore comunque hai qualcosa da dire e questo secondo me è fighissimo ed è raro ed è rara questa cosa qua no mi sorprende piacevolmente questa cosa qui Taki si evince da quello che dici una passione smisurata sembra che tu guarda mi ricordo l'ho detto l'altra settimana Riccardo no in un'intervista insomma che c'è stata con David Lashapelli lui racconta del fatto che lui non chiede cosa può prendere dall'arte no ma chiede cosa può dare lui all'arte no che è una forma di amore secondo me nei confronti di appunto le forme artistiche di per sé in una qualche maniera ritrovo in te in quello che dici il desiderio di raccontare qualcosa e poi nel momento in cui lo condividi tu parli a tutti noi ma dai la possibilità a noi osservando le tue immagini di parlare non solo con i stessi ma a nostra volta con gli altri c'è un indagare continuo fra noi e il prossimo e questo secondo me è una grande cosa che ti riconosco sicuramente grazie grazie io guarda io cerco sicuramente l'arte per me è talmente importante che ne sono condizionata però cerco cioè quasi per me la fotografia è un'arte ed è quasi magia per cui cerco di interpretare quella magia e di continuare a comunicarla sperando che poi qualcuno quando guarda le mie immagini colga questo amore che io ho verso la fotografia perché non è è proprio una passione è un amore passione e ossessione cioè per me è veramente è veramente la mia compagna di vita quando non fotografo mi sento anche non bene devo fotografare perché devo esternare quello che ho dentro quindi per me è un'esigenza fotografare decisamente allora questa te lo dico così è forse l'immagine che sento più che mi muove dentro che mi che mi piace veramente tanto tanto sì dimmi ma se posso darti se vuoi ti racconto l'aneddoto dietro questa fotografia allora questa fotografia è stata esposta in varie mostre sia a New York che a Milano che a Parigi e ha vinto anche un concorso ma la cosa principale è che è nata da un mio momento di disperazione cioè ovvero eravamo in lockdown eravamo nel momento in cui non si poteva uscire di casa e quindi eravamo in casa da più di due settimane e io disperata una sera mi ricordo che potevo fare solo il giro dell'isolato pioveva e niente in casa avevo questa ansia stavo soffocando perché mi sentivo veramente male era un periodo in cui non avevo molta speranza per il futuro perché non capivamo neanche noi cosa stesse succedendo per cui scendo esco di casa sotto la pioggia mi ricordo c'era una pioggia abbattente ma non mi interessava ero quasi vagabondavo praticamente a un certo punto trovo quella cornice nella spazzatura dell'amsa rotta a metà e quindi niente mi sono mi sono riconosciuta mi sentivo così e quindi l'ho raccolta l'ho portata a casa l'ho pulita l'ho l'ho risistemata io ovviamente in quel in quel manca il pezzo finale che poi ho fatto aggiustare ma al momento non riuscivo a farlo perché non potevo andare da nessuna parte e quindi mi sono messa mi sentivo così mi sentivo infatti si chiama observing the future cioè osservando il futuro il titolo perché mi sentivo proprio così mi sono mi dico adesso magari domani è l'ultimo mio giorno di vita per cui mi metto il mio vestito che ho mi metto davanti al futuro che non vedo e scatto questa immagine e così è venuto fuori questa e aveva la stessa forma finale della schiena è per cui ho pensato cioè quindi però ci dico sembra una continuazione no? sembra una continuazione poi tra l'altro tra la cornice e l'abito sembra che prosegua e poi era proprio un mio stato d'animo nel senso che chiaramente poi il pubblico non può saperlo però io ogni volta che guardo questa foto mi ricordo di un momento difficile della mia vita sicuramente per cui c'è chi può vederlo in modo positivo ma io so che so che quella cornice ha significato molto per me ancora oggi è appesa vuota così di fianco al mio letto perché insomma mi è rimasta io ti dico è un'immagine che mi aveva colpito tantissimo uno per l'eleganza dell'immagine che è un'eleganza incredibile per la composizione delle linee e poi questo specchio che non riflette appunto con questa con questa donna questa ragazza elegantissima posta lì davanti è chiaro che ti fai una domanda no? il fatto che non venga riflesso no? che sembra quasi una persona quasi non esista più no? esatto un'immagine per me è potentissima mi è piaciuta mi è emozionato subito quando l'ho vista così potente poi così vicina a questo specchio c'è l'eleganza c'è proprio queste contraddizioni no? che tu dicevi prima questi contrasti no? come dicevi prima il luogo magari bellissimo no? un luogo decadente con una ragazza bellissima in questo caso e questo si crea questo cortocircuito narrativo noi che diamo vogliamo sempre dare una spiegazione a ciò che vediamo e quando l'autore secondo me riesce a crearci questo piccolo cortocircuito mentale lì parte il fascino diventa affascinante e chiaramente ci saranno persone che racchiudono il tutto ma non ho capito niente boh e altre persone invece che si perderanno io personalmente adoro perdermi in questi in questi mondi quindi insomma cosa ti devo dire? anche io però l'amore ti direi grazie sono allorata però però devo dire che io la penso come te però il bello è anche appunto pensare cioè vedere cosa ne pensano gli altri proprio perché per esempio mi è capitato di avere un commento in cui invece c'era qualcuno che vedeva positività verso questa fotografia che quindi diceva guarda io non vedo niente ma vuol dire che il mio futuro ha ancora tutto da scoprire qui ognuno poi la vede come gli fa però mi piace mi piace molto il fatto di interpretare a modo suo io ho rappresentato un mio momento difficile un mio stato d'animo ma tante persone l'associano magari alla loro vita cioè il bello della fotografia è questo un emozionare e due poter poter suscitare un qualcosa dentro che magari fa parte del tuo percorso che bellezza c'è Olivia qua cincante che bellezza incredibile che sono queste immagini qua veramente no beh questa guarda proprio questa mi ricorda molto Ophelia che è un quadro molto famoso lei era sempre quella modella che aveva quel taglio di luce aveva questa questa malinconia e questo questo sguardo sognante che mi faceva entrare in questo mondo e quindi fotografavo in quella direzione ma perché lei mi stimolava quel tipo di quel tipo di foto ecco perché poi sai magari la fotografa invece aveva quello sguardo proprio sognante e io ho cercato di cogliere un po' come Biancaneve insomma la bella addormentata nel bosco io poi sono un amante delle fiabe oltretutto che mia nonna mi raccontava tutte le sere quindi sono molto influenzata da mia nonna per me è stata molto importante perché insomma era una persona che credeva nelle favole me le raccontava e aveva un ideale femminile molto 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 elegante e quindi mi ha influenzata tantissimo mi ricordo che mi faceva tutti i vestiti da piccola giocavamo tantissimo quindi anche quella parte un po' giocosa un po' sognante un po' fiabesca sicuramente deriva dalla mia infanzia da quanto lei è stata è stata una grande influenza nella mia vita davvero molto importante per me allora mentre diamo la buonanotte anche a Valentina c'è Luca Lavezzo che ti dice queste fotografie sono veramente tanta roba grazie grazie guardate guardate che roba che roba la costruzione di questi momenti questi micromossi cose così e io mi viene quasi da pensare che mentre tu li scatti ci sono quasi un momento di trance cioè non lo so c'è un lasciarsi completamente andare mentre si scatta c'è il ritmo che mette in linea secondo me appunto quello che l'anima il cuore c'è una danza quasi sembrano questi tuoi mossi guarda il mosso secondo me rivela molto la profondità il mosso è una tecnica affascinantissima che insomma suggerisco a tutti di sperimentare perché vi può far scoprire delle cose che di voi non sapevate ma anche del proprio vostro fotografare ed è molto faticoso sicuramente molto faticoso ci vuole tanta pazienza e ci vuole tanta passione nel parlo però sicuramente sì è un momento di trasporto assolutamente sì è anche importante il movimento della persona il micromovimento perché ciò che vuoi ottenere devi arrivare ad ottenerlo perché tutto l'insieme deve funzionare perché a volte ci sono dei micromossi che non sono non sono perfetti oppure non sono veramente micromossi e quindi devi arrivare a quel punto ma ci vuole c'è tanta sperimentazione dietro sicuramente devi considerare il fatto di metterti nella mente che devi lavorarci molto sicuramente perché il primo scatto non è mai quello che ti soddisfa ci vuole tanto tanto lavoro sicuramente porta via tanto tempo il mosso sicuramente quello sì e qui abbiamo invece una situazione un po' un po' diversa sì ma qui guarda c'è parte mosso e parte non sempre creando sempre usando luci perché la luce io amo molto la luce il flash lo amo ma amo particolarmente le luci fisse quindi mi piace sperimentare tantissimo con le luci con i tagli di luce e questo dà già movimento al background diciamo alla parte dietro crea profondità crea dimensionalità e poi l'immagine da sé si stacca dal fondo e poi lì devi giocare sempre con i secondaggi e provare provare con un trentesimo di secondo scendere cambiare la luce e direzionarlo nel modo corretto però puoi ottenere degli effetti meravigliosi quasi questo è quasi un po' anime insomma un po' il Giappone un po' esatto perché sono anche appassionata per esempio di Giappone della cultura dei insomma sono appassionata anche del Giappone tantissimo mi piacerebbe andare la loro cultura mi affascina moltissimo e quindi la ritrovo molto anche nella mia fotografia allora questo è dimmi tu vado no vai 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 allora questo è stato per me un progetto molto molto importante sono stata chiamata da un'associazione che si chiama Chemio World e mi hanno chiesto di fotografare sette donne che stavano attraversando un percorso di chemioterapia è stato forse lo shooting più difficile che ho affrontato emotivamente perché erano donne che erano anche insomma al quarto stadio e quindi stavano affrontando un percorso di chemioterapia pesante e insieme a questa associazione e Sinergy Milano che è un atelier che ha dato a disposizione la possibilità di farlo si voleva far passare loro una giornata di bellezza per sentirsi belle perché a un certo punto loro non si sentivano più non è che non si sentivano però affrontando un percorso così pesante per una donna volevamo farle vivere una giornata di leggerezza per cui ho avuto l'idea delle piume come leggerezza di tessuti leggeri e stavamo promuovendo appunto questi turbanti fatti in cotone proprio per donne che affrontano il percorso chemioterapico e quindi che possono portarle perché non sono allergici eccetera quindi ad ognuno abbiamo associato un colore in questo caso vabbè è un bianco e nero però questo è uno scatto di bianco e nero però poi l'abbiamo fatti tutti in colore e abbiamo creato degli scatti che le facessero sentire bene sentire belle e dessero un'immagine di loro che magari di cui loro non riuscivano più a vedersi insomma ecco e alla fine devo dire che quando hanno visto le fotografie la più grande emozione è stata grazie per avermi fatto sentire così bella cioè a me è bastato questo per essere felice e per averle rese felice è stata veramente una grande emozione spero di poterlo rifare insomma ecco bellissima questa questa storia che c'è dietro poi questo scatto no? sono e sai tanto c'è Giorgia che ti abbraccia virtualmente che sente l'emozione insomma nel racconto grazie Giorgia e sai c'è un discorso no? la fotografia di per sé porta appunto la la potenzialità di poter fermare no? un preciso istante e alle volte dietro queste fotografie appunto si celano storie che magari non conosciamo e che spesso magari osserviamo quasi con superficialità proprio perché bombardati da tantissime immagini quindi o ci arriva qualcosa che ci colpisce particolarmente oppure forse non non gli daremo l'attenzione di cui magari appunto meriterebbero no? ecco io ti ringrazio perché quello che c'era il contatto durante questa serata adesso abbiamo ancora altre immagini adesso andremo a vederle e vanno proprio in quella direzione lì il fatto di scoprire di svelare senza però essere smaccata nel senso ci dà la possibilità di avere una lettura più attenta alle immagini insomma che che proponi sicuramente io ritengo che Instagram sia un ottimo social coi pro i contro però che ci aiuta a scoprire non la visione di alcune cose però questo tipo di contatto che magari ci dà quest'altro tipo di social secondo me è fondamentale per riuscire ad arrivare maggiormente alle persone poi fermo restando che l'arte della creatività è dedicata a tutti ma soprattutto a chi ha occhi per guardare insomma per soffermarsi pensare e quindi questa è una cosa secondo me un'opportunità molto bella che ci hai donato oggi accettando il nostro invito grazie a te non ho capito scusami no dicevo anche questa immagine che bella che bella luce guarda qui c'era una luce pazzesca sempre creata con gli specchi con sono tre luci che riflettono gli specchi e quindi creano questo riquadro di luce ma la cosa fondamentale di questa foto è che era la fine dello shooting e la modella era stanchissima e quindi si è seduta e ho colto un attimo quella sua quel suo lasciarsi andare e dire ho finito e mi è piaciuto molto quel modo di dire cioè proprio quell'emozione non so a volte mi piace tantissimo poter cogliere quello che magari in quel momento stava pensando ma si è proprio lasciata andare mi è piaciuto proprio riuscire a cogliere quel momento quell'istante perché poi la fotografia è un insieme di istanti bravissimo assolutamente sì assolutamente sì guarda guarda che bello questo è sempre il mio boldini è sempre il mio progetto che si lega le altre fotografie e qui vabbè abbiamo esagerato con le piume abbiamo esagerato con la proiezione dietro un quadro guarda qui proprio c'era c'è l'apoteosi del periodo della belle époque posso dire che questa è proprio belle époque belle époque misto moulin rouge ecco c'è un po' di tutto e niente vabbè l'insieme dei colori la luce sempre filtrata attraverso il light painting quindi un trucco che può dare quell'effetto la proiezione dietro di comunque parte di un quadro che rispecchiava molto l'abito tutto l'insieme insomma è un momento in cui lei ammica un ballo movimento che va verso magari un uomo che la sta conquistando insomma a me piace molto anche romanzare un po' gli scatti insomma allora Luca ci vedi una storia certo ma assolutamente ecco ma questa è la cosa forte tua le storie che ci sono dietro in cui mi piace perdermi e spero che anche i nostri spettatori lo fanno Luca ci dice una serata veramente interessante grazie alla bravissima artista che come sempre sei un super conduttore allora posso prendermi la cartellina mi metterò la prossima volta come i veri come i veri conduttori sì foto davvero pazzesche allora scusate passo ancora una poi vi leggo quindi noi chiudiamo con questa immagine poi vado e vi leggo a tutti scusatemi un attimo ecco qui quindi quest'altro movimento altre cose il vestito il vestito il vestito guardo così malizioso così sexy così proprio anche un po' di sfida del tipo guardami come è bello poter anche questo gioco di seduzione avanti indietro quando entri in empatia con un soggetto insomma è una grande soddisfazione devo dire riesci a creare delle insomma delle cose meravigliose ecco ma è grazie anche sia al soggetto al vestito alla tua interpretazione al insomma tante cose ecco senti c'è una domanda interessante di Sarpedonte che dice sempre per entrambi quanto cercate di non costruire una fotografia cioè proprio l'esempio della modella stanca quanto cercate momenti del genere allora io molto nel senso che come dicevo prima per me magari ho più difficoltà davanti magari a un soggetto che mi guarda e magari mi chiede una foto rispetto a magari anche smettere un attimo di fotografare quella parte e lasciare che la persona si lascia andare e magari odare alla persona la possibilità di rappresentare un po' se stessa oltre magari c'è un momento in cui magari tu gli chiedi certe cose e c'è un ruolo che devi interpretare e quindi è anche una sorta di essere un po' attori ma poi arriva anche il momento in cui invece è bello cogliere anche quel momento in cui è più naturale e quindi può essere insomma io trovo affascinante anche una mano un gesto un toccarsi i capelli cioè trovo affascinante l'essere umano anche nel suo movimento nella sua la sua interpretazione di se stesso attraverso anche le mani il movimento cerco di cogliere quello che per me è sexy quello che per me è interessante elegante ci provo ecco però mi piace farlo anche in un momento in cui lascia la persona essere se stessa sì indubbiamente io condivido in pieno quello quello che dici è chiaro che quando si crea una messa in scena si crea un artificio diciamo così ma poi è bello cogliere quando la persona che è davanti si abbandona e vive quel momento lì quel momento non è costruito quel momento è vero è autentico e sarà diverso quando c'è Olivia più Samantha che fa la fotografia Demis più Samantha che fa la fotografia ognuno riuscirà a cogliere momenti momenti diversi secondo me insomma questo è importante allora mia caro Olivia noi siamo giunti incredibilmente a conclusione di questa serata intanto io spero che tu sia stata bene in nostra compagnia assolutamente vi ringrazio tantissimo sei stato veramente un conduttore fantastico ti ringrazio per le domande e anche ringrazio anche tutti voi per delle domande meravigliose per avermi dato l'opportunità di parlare della mia più grande passione ovvero la fotografia allora senti io concludo sempre le mie interviste con una domanda però volevo chiederti una cosa aggiuntiva innanzitutto come insomma spero appunto ti sia trovata bene all'interno del canale all'interno di questa rubrica e appunto in caso affermativo sentiresti di consigliare interviste creative ai tuoi colleghi e amici sia per parteciparvi come autori sia come pubblico per le prossime serate e nel caso affermativo perché? allora sicuramente e nel perché perché comunque tu hai molta attenzione verso l'artista e penso che questo sia davvero fondamentale è difficile trovare l'attenzione che tu hai nel modo in cui tu osservi le loro fotografie insomma in cui parli come parli dell'autore per cui vuol dire che anche tu hai questa passione e riesci a comunicarla e penso che sia importante questo perché poi non ci sono veramente tanti luoghi dove parlare di fotografia soprattutto se posso permettermi di dirlo in Italia in Italia la fotografia non è considerata tantissimo come arte rispetto a altri paesi e quindi dovremmo parlarne molto 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 di più per cui io assolutamente a livello artistico ci dovrebbe essere un salotto artistico dove si possano scambiare idee e parlare del proprio lavoro è molto importante per mantenere viva l'arte guardi io ti dico uno dei progetti che vorrei realizzare è proprio perché sono anche uno stampatore mi piace curare fotografiche eccetera e a me piacerebbe un domani di realizzare una mostra collettiva di tutte le persone che ho intervistato chiaramente a spese mie cioè nel senso io ero vittore stampe faccio la mostra ma mi piacerebbe portare traccia di quello che viene fatto all'interno del canale quindi chiedo se ti piacerebbe farne parte insomma di questa mostra qui assolutamente si è una bellissima idea e di nuovo grazie perché questo fa sì che si parli di fotografia e che la fotografia faccia parte del mondo dell'arte come dovrebbe essere e ce n'è tanto bisogno soprattutto in questo periodo allora quindi grazie Demo grazie per la considerazione Olivia grazie a te è stato veramente un piacere io come sempre dico cioè io starei qui a parlare per ore poi mi rende un po' passa vola eccetera insomma non voglio neanche approfittare più di tanto però io ti ringrazio vi rimetto il QR code che so avete scansionato durante la live comunque ecco qui live art fotografi non ci stava la fotografia quindi ho lasciato foto però il QR code c'è tutto quindi andate scansionate e andate a seguire Olivia se ancora appunto non l'avevate fatto Olivia grazie di cuore e ti auguro una buona serata Demis grazie a te grazie a tutti voi buona serata a voi grazie buona continuazione ciao grazie ciao allora ragazzi miei aspetta un attimo che sbaglio tutto siamo arrivati a conclusione di questa serata ma ma vi devo dire che mi ha fatto molto ridere che Sarpedonte Sarpedonte ha scritto adoro come Demis e storcio il promio dell'intervista ma non è vero non è vero allora poi che altri messaggi ci siamo persi Manu immagini stupende create per farci sognare e trasportarci in un altro mondo grazie per aver condiviso questo spazio con noi Seba ci salutava quindi Seba che se ci sei io ti porto i miei saluti e mi complimenti ad entrambi ottima ottima serata e Giorgia aggiunge vediamo un po' sei davvero tanto brava si percepisce il tuo amore per ciò che fai elegante raffinata attenta è sensibile cosa abbiamo ancora Daniela mamma mia quanto avete scritto oggi Daniela serata speciale con una donna speciale dietro lavori così intensi c'è sempre una persona incredibile e cuore e guarda se il pedonte dice appunto ho fatto il bravo durante l'intervista fammela dire una vaccata ma hai fatto benissimo hai fatto benissimo a farla anche sempre molto sorridere dunque cose che vi devo dire importanti il 5 di che mese siamo il 5 di giugno verrà inaugurata a Trieste presso il caffè storico Stella Polare la mostra dedicata al Minimal a cui partecipa anche Mauro Serra e il nostro Luca partecipano con due immagini che ci hanno inviato quindi grande sorpresa per chi avrà piacere di passare a vedere la mostra insomma sarà interessante chiaramente ringraziare il nostro sponsor il David Foto Studio che si è occupato anche della stampa della mostra dovevo dirlo per contratto questa cosa qua poi altre cose da dire la prossima settimana faremo un esperimento faremo un esperimento dovevo vedere se tutto va in porto ma parleremo di intelligenza artificiale e in diretta vi mostrerò una cosa secondo me che abbastanza può tornare utile a chi si occupa anche di fotografia commerciale come faccio io per quello che riguarda lo sviluppo di immagini di massa diciamo così quando devi sviluppare un sacco di immagini che non hanno bisogno di un taglio creativo anche perché sarebbe impossibile sistemare 500 fotografie a un taglio creativo in tre settimane quindi è ovvio che ci si possa affidare anche qualcosa però se vi è in porto secondo me sarà una live tanto interessante perché lo faremo in diretta poi altra cosa vi ricordo che la live di questa sera sarà poi disponibile sul nostro canale youtube ora per motivi di lavoro non credo di riuscire a farlo domani ma sicuramente da dopodomani quindi che giorno è oggi quindi da mercoledì potrete recuperare la live fatta con olivia sul nostro canale youtube dove lì resterà mi raccomando se avete piacere di supportarci ricordatevi che ci basta anche un like un messaggio all'interno dell'intervista appunto su youtube perché ci aiuterete un attimo a far capire l'algoritmo di youtube che ci siamo insomma che realizziamo contenuti interessanti e che quindi magari ci aiuta a comparire un po' più spesso altra cosa da dire l'ultima poi vi saluto attenzione perché venerdì sera se volete vedermi in altre vesti e io so che qui c'è qualcuno che vuole farlo sarò live insieme a Giorgia per una serata horror che non facevamo da tanto tempo quindi se mi volete vedere urlare quei gridolini quelle cose imbarazzanti in cui decade tutta la mia professionalità potrete farlo venerdì alle 21 iniziamo Alan Wake Remastered gioco che non ho mai giocato non ho sempre sentito parlare e quindi cogliamo l'occasione insomma per stare assieme con leggerezza detto questo scusate il ride andiamo a fare un piccolo ride vediamo a chi andiamo a farlo e così ci salutiamo e così spero di farvi di portarvi da qualcuno che per chi ancora non ha sonno vi faccia buona compagnia ma come no io vi porto vi porto da Slayer vi porto da Slayer personaggione che vi raccomando salutatemelo hashtag percorsi creativi dov'è il coso del ride scusate mi è partito audio tutto sta impazzendo tutto quanto esegui un ride non riesco a parlare scusate sentite che mi è partito tutto allora mettiamo Slayer non lo trovo neanche morto adesso qua scusate ma voglio andare da lui vediamo un po' vediamo un po' datemi un attimo di tempo Beard Slayer Beard allora eccolo qua ragazzi ci siamo io vi ringrazio della compagnia alla prossima ho fatto partire il ride buonanotte a tutti vi voglio un mondo di bene ci vediamo alla prossima quanto mancano 5 secondi 4 3 salutatemi Slayer che è un amico ciao ragazzi grazie della compagnia grazie